Ha inaugurato la serie di legni colpiti dalla Fidelis Andrea Nardò in una domenica ricca di gol sfiorati e rimpianti. C'è anche Simone Bolognese tra i protagonisti bianco-azzurri in questa delicata fase della stagione con la formazione quarta alla pari con il Lavello nel girone H. Il centro di Benvenga, che si somma così all'elenco dei marcatori messi in campo dalla Fidelis, è risultato una goccia nell'oceano di occasioni partorite nell'1-1 del Giovanni Paolo II. Abbiamo comunque creato tanto, siamo stati anche un po' sfortunati, poi sicuramente altre situazioni si potevano fare meglio, dobbiamo migliorare, lo sappiamo, però sì, c'è rammarico per quanto creato e quanto raccolto. Di fatto quello in Salento è un pareggio che ricorda quelli contro Taranto e Casarano, tanto giocoprodotto, predominio territoriale e tecnico per ampi spazi di gara, ma posta divisa con l'avversario, prestazioni non sempre corrisposte dai risultati. Penso più dipenda dal fatto che abbiamo acquisito consapevolezza, questo sicuramente grazie ai risultati favorevoli, quindi ci divertiamo e vogliamo giocare tutti bene, ci ha dato ragione perché abbiamo ottenuto diversi risultati giocando in questo modo, quindi la strada è quella giusta, dobbiamo soltanto continuare così e fare qualche gol in più che ci fa vincere la partita. Quasi 2000 minuti giocati, 19 presenze, una rete bolognese classe 1991, ma sulla carta fondamentale per la sua crescita è anche l'apporto di staff e senior. Hanno sempre una parola di riguardo verso di noi, sempre una parola positiva, di incoraggiamento nel caso in cui dovessimo sbagliare. Questo fa sì che un under possa crescere più in fretta e più velocemente possibile, il meglio. In tanti, nel corso di Pane, Amore e Fidelis su Telesveva, gli hanno scritto per chiedergli della sua permanenza ad Andria, anche nella prossima stagione. Per quanto riguarda il futuro del prossimo anno, sono concentrato sul finire di questa stagione, voglio finirla al meglio raggiungendo l'obiettivo che ci siamo prefissati. Poi ci sarà il tempo per valutare l'anno prossimo. Prossima tappa nel cammino play-off della Fidelis, la trasferta di domenica contro un team Altamura, reduce da sette partite di fila senza vittorie, ma che nutre ancora ambizioni di quinto posto. Sappiamo l'importanza della partita e sappiamo che è un'ottima squadra, perché ce ne siamo accorti anche all'andata. Una squadra che ci ha messo in difficoltà, uno sconto diretto, anche se loro hanno perso un po' di punti, però hanno giocato ogni tre giorni, quindi ci sta che non siano così freschi, però è una partita durissima e la affronteremo come tutte le altre. Grazie. 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 Grazie.